Morena Torelli, presidente dell'associazione Doni in Campo, Mantova. Quest'anno il baratto dei saperi dedicato alla zucca, che cosa proporrete? Ah beh, la zucca si può mettere in tutti i piatti, quindi cominciamo da un antipasto per presentare poi una crema di zucca che va quindi come primo, poi un secondo una parmigiana di zucca, poi i dolci, i mostardi, i marmellati e tutto quanto, cheesecake e chi ne più ne ha più ne metta. Anche la cheesecake di zucca? Eh certo, sì, anche quella, con la zucca si può fare tutto, è un prodotto che va bene per tutto, versatile. Per quello che riguarda il baratto dei saperi ricordiamo che cosa si tratta, di che iniziativa stiamo parlando, perché è già un po' di tempo che lo state portando avanti. Sì, noi il baratto dei saperi stiamo portando avanti circa da 7-8 anni, è stato presentato prima a livello regionale, abbiamo fatto un corso, e poi lo abbiamo presentato qui a livello provinciale e si tratta in pratica di uno scambio dei saperi, perché tutti abbiamo le nostre conoscenze, quindi è uno scambio con le persone che comunque vengono qua e che non soltanto degustano i nostri prodotti, ma ci devono dare anche un parere. Barattare per conservare e tramandare? Eh, anche tramandare, se qualcuno anche ci vuol dare le ricette della nonna, benvengano. Grazie.